16 Aprile 2020 Messaggio di Nostra Signora Cari figli, lasciate che le parole del Mio Gesù risplendano nelle vostre vite e trasformino i vostri cuori. Abracciate gli insegnamenti della Sacra Scrittura e andate mano nella mano con la verità insegnata dal vero Magistero della Chiesa del Mio Gesù. I nemici getteranno via grandi verità di fede e molti dei Miei poveri figli saranno contaminati. Qualunque cosa accada, rimanete con Gesù. Ascoltatemi e io vi condurrò per il cammino del bene e della santità. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.